Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo. Alla Sua amata figlia Luz de Maria. 27 giugno 2012. Punto interrogativo. Mie amati. Vi benedico, siete la mia gioia. La preghiera è indispensabile per i miei figli di fede. La preghiera è cibo per l'anima. La preghiera, per quanto piccola sia, giunge fino a me e io l'accolgo con grandissimo amore. La preghiera è il supporto della creatura umana e, offerta dai fratelli, si diffonde all'infinito da una creatura all'altra, portando luce alle anime perse. Mantenetevi in comunione con me per non soccombere, poiché la mia stessa forza e il mio stesso amore dimorano in ogni istante nei miei fedeli. La preghiera deve essere continua, ma in questo istante vi esorto a una preghiera attiva, come la preghiera che io stesso ho portato di città in città, la preghiera che dona conforto agli indifesi, che risolleva, chi è prostrato a terra, che aiuta chi non riesce a trovare il giusto cammino e che nutre gli affamati. Questa è la preghiera attiva, la preghiera di chi non rimane immobile ma va incontro ai propri fratelli. Una preghiera che non viene messa in pratica è come un ottre vuoto, è come un ottre bello fuori ma secco all'interno, fragile internamente, pieno d'egoismo. Voi, che siete i miei fedeli, dovete aiutarvi a vicenda. Questa sarà la regola da ora in avanti, perché le forze del male che invadono le menti degli uomini, infondono in essi l'egoismo affinché vedano solo loro stessi e guardino con disprezzo i propri simili, allontanandosi dalla preghiera. L'anima di ognuno di voi deve fondersi completamente in me. L'Eucarestia, deve continuare in ogni momento della vostra esistenza, dovete portarmi con voi ovunque andiate. Miei amati, l'umanità ha perso la coscienza e la ragione solo per istinto si trascina verso chi la chiama a seguire un determinato cammino. Soffrirete, soffrirete molto. Tutti, tutti gli occhi dell'umanità vedranno come l'egoismo e il fanatismo di alcune creature umane causeranno grande dolore a moltissimi giovani. Vi invito a pregare, a pregare per l'Inghilterra. La Terra in questo momento sta per essere purificata, la purificazione ha avuto inizio. È già presente. Molti ora ridono delle mie chiamate, ma saranno gli stessi, che gemeranno per questa derisione. Non dimenticate che non c'è più tempo, che la purificazione della mia chiesa è già in atto. Aprite gli occhi, spalancate le vostre menti per arrivare a comprendere questa dolorosa realtà. Mantenetevi fedeli alla mia parola. Figli miei prediletti, fedeli amanti della mia beata madre, voi condurrete la mia chiesa sul giusto cammino. Il male si diffonde. Il lamento sarà tale che arriverà fino alla mia casa, per i gemiti degli innocenti, che con il suo cuore allegro si radunano e sono attaccati dalle insidie di quelle menti tormentate dal desiderio di sterminare i miei. Carissimi, i tentacoli dell'Anticristo sono molteplici. L'Anticristo è sempre più potente ogni volta, che un essere umano diventa suo seguace. I governanti saranno soppiantati dai seguaci di questa forza ostile, i paesi si vedranno sottomessi a un unico governo, che si sta segretamente infiltrando in essi. La formazione di questo governo unico è già iniziata. Carissimi, miei amati pregate, pregate per il Guatemala. Figli miei, continuate a rimanere uniti in me, nutriendovi di questa comunicazione continua con la mia casa. Non fate caso alle cose mondane, rivolgetevi a me. Il crogiolo è pronto, ma l'umanità deve ancora superare la prova più difficile. Quanti esseri umani strisciano come serpenti per fare del male ai miei figli. Ma io solleberò i miei figli e, come aquile, essi solcheranno le altezze per non essere più toccati. Le mie legioni celesti, infuse della mia stessa luce, giungeranno per soccorrere il mio popolo e proteggerlo dal male. L'uomo dovrà dimostrare la sua fede per la mia casa. E io stesso verrò a pormi di fronte a lui e lo prenderò tra le braccia. E gli concederò di godere delle delizie della mia casa. Siate forti. Non esitate di fronte al peccato. Quanti e quante di voi si giustificano davanti a me dicendo che la lotta è dura. Avrei potuto lasciar cadere la mia croce perché era troppo pesante, avrei potuto rifiutare di essere incoronato di spine perché facevano troppo male. Avrei potuto rifiutare di essere flagellato così crudelmente perché il dolore arrivava fino all'anima. Non l'ho fatto perché vi amavo. Siate forti e, se mi amate, resistete alla tentazione con coraggio e a testa alta, non scivolate via come i serpenti, che strisciano per non essere visti. I miei figli hanno il coraggio delle proprie azioni, stanno a testa alta, elevano lo spirito e imprimono nel cuore il mio amore. Ho bisogno di creature di fede, di fede incrollabile, creature disposte a tormentare i propri sensi pur di rimanere al mio fianco. Vi amo, non restate nell'oscurità, la luce del mio amore vi illumina come in pieno giorno, facendovi gustare la sua chiarezza. La chiarezza si richiama alla verità e la verità deve dimorare in voi. Pregate figli miei, pregate per il Messico, soffrirà. Le mie mani, le mie mani accompagneranno il mio popolo. Vi proteggerò, vi nutrirò con la mia parola, vi terrò come vi tengo in questo momento, dentro, nel profondo del mio cuore. Rivolgetevi a me, non sono lontano, mi trovo all'interno di ognuno di voi. Vi benedico. Posa questa benedizione dimorare in voi e nei vostri cari. Che il mio preziosissimo sangue versato per voi vi copra e vi protegga affinché siate degni di essere miei figli. Il vostro Gesù.